pace bene cari amici bentrovati in questa 26esima domenica meditiamo sul testo di luca 16 19 31 ovvero sia la splendida parabola del ricco e pulone e di lazzaro questa parabola è incastonata nel sedicesimo capitolo che luca dedica alla gestione corretta dei beni al pericolo delle ricchezze e alla necessità di condividerle ed è strutturata in due scene una si svolge sulla terra una nell'eternità due sono i personaggi principali il ricco e il povero lazzaro vediamone un po anzitutto la descrizione questo uomo ricco è senza nome è detto che vestiva lussuosamente e mangiava ogni giorno lautamente con ricercati banchetti il fatto che sia senza nome già fa riflettere in casi come questo nella scrittura specie nel vangelo indicano una persona non compiuta una persona quasi senza volto senza identità una persona che non ha realizzato la verità di sé è anche un invito a mettersi nei suoi panni in questo caso per non ripeterne gli errori quest'uomo si identifica esclusivamente con ciò che possiede con ciò che indossa quanti purtroppo anche oggi cercano il loro valore o pensano di cercare il valore negli altri in base a ciò che si indossa ciò che si possiede al lavoro che si fa o quanti soldi si hanno e che tristezza quando pure i bambini vengono contagiate da questa mentalità micidiale per cui già da piccolini eccoli fare la gara chi è le scarpine più belle a disprezzare quelli più semplici o più poveri che tristezza essere schiavi dell'esteriorità al punto da ridursi magari a mangiare pane e cipolla pur di sfornare auto televisori vestiti che tristezza non aver scoperto che il valore profondo di ciascuno è nell'essere immagine e somiglianza di dio e non nelle cose che uno indossa questo uomo ricco ogni giorno mangiava lautamente come a dire uno che vuole soddisfare in tutto e per tutto i propri piaceri questo è il centro della vita tanto preso dai suoi bisogni da essere cieco e non voler vedere il bisognoso che stava alla sua porta infatti alla sua porta c'era lazaro quest'uomo povero affamato avrebbe voluto saziarsi delle molliche che cadevano dalla tavola del ricco in effetti in oriente era una scena comune i ricchi che banchettavano non avevano i tovaglioli non si usavano ci si asciugava le dita sulle molliche del pane che poi si gettavano a terra i poveri le mangiavano a lazaro non vengono date neanche queste e non solo oltre a essere povero affamato e anche ammalato è coperto di piaghe e nessuno se ne prende cura se non i cani da notare un altro piccolo particolare i cani secondo la mentalità di quel tempo erano animali impuri quindi un povero che aveva contatto con gli animali era a sua volta impuro cioè inadatto a relazionarsi con dio dunque detto in modo semplice un reietto uno scartato pure da dio invece secondo molti la ricchezza era segno di una benedizione di dio quindi vista con occhi superficiali questo ricco era ampiamente benedetto da dio questo povero disgraziato ampiamente maledetto pure da dio arriva sorella morte e arriva per tutti e due la morte arriva per tutti e qualcuno diceva che una grande livella è vero nel senso che dopo che passa la morte non ci sono più né poveri né ricchi ma più profondamente la morte è anche una bilancia l'anima infatti si presenta al cospetto di dio riceve il giudizio è lì che viene soppesata e valutata in verità la qualità della vita vissuta da ciascuno e come diceva san giovanni della croce saremo giudicati sull'amore dopo la morte la scena è totalmente ribaltata il povero è accolto da abramo in cielo il ricco tra i tormenti dell'inferno capiamo bene che questo ribaltone non è dovuto solo al fatto che uno era povero e uno era ricco non è la condizione economica o sociale che determinano il giudizio di dio ma come uno abbia vissuto la sua vita e semmai anche come ha gestito i beni che gli sono stati affidati lazzaro viene accolto da abramo sant'agostino diceva per la sua umiltà in effetti lo vediamo nel vangelo povero affamato ammalato scartato non si non inveisce non impreca il nome stesso lazzaro significa dio aiuta un povero che avrà cercato in dio il suo conforto e che è stato accolto da dio stesso il ricco che giace tra i tormenti dell'inferno vediamo come si comporta in modo ancora assurdo alza lo sguardo vede abramo e lazzaro e uno potrebbe col beneficio del dubbio dire ma forse lazzaro non l'aveva visto durante la vita non lo conosce è invece sorpresa anzitutto chiama abramo come padre padre abramo cosa significa significa che quest'uomo era un figlio di israele era un membro del popolo di dio ma tutto ha fatto tranne che rispettare dio la sua parola e dunque il suo prossimo vedete questo in modo simpatico ci dice che non basta un appartenenza generica non so ma anche alla chiesa stessa per sentirsi a posto cioè non basta che ho fatto il chirichetto da piccolo e sono stato battezzato per essere sicuro che alla fine della vita il giudizio andrà bene ci vuole qualcosina in più ecco chiama abramo e dice padre abramo di a lazzaro di intingere le dita magari nell'acqua di portarmene un po perché io qui sono stremato dal caldo rete il ricco continua ad accampare pretese in virtù di una precedente differenza sociale cioè innanzitutto lazzaro lo conosceva e come perché qui lo chiama per nome ma non solo pensa ancora di essere superiore a lazzaro cioè continua a vedere lazzaro come l'ultima ruota del carro e no gli dice padre abramo no 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 innanzitutto caro figlio tu in vita e ha avuto i tuoi beni lazzaro ha ricevuto i suoi mali ora la situazione è opposta e poi tra noi e voi c'è un abisso quindi nessuno da qui può venire lì da te vedete quella sottile porta che nella vita terrena separava il ricco dal povero ora è un abisso inattraversabile cioè dopo sorella morte non c'è più possibilità di ridecidersi finisce il tempo della libertà di scelta e il giudizio di dio sarà eterno questo che cosa ci dice vedete che il ricco aveva la possibilità di salvarsi proprio grazie a lazzaro cioè lazzaro in un certo modo era per lui la porta del cielo la porta della salvezza cioè quel povero era l'occasione che il ricco aveva per condividere i suoi beni per voler bene a qualcuno e non vivere esclusivamente centrato su di sé lazzaro che significa dio aiuta poteva essere anche per quest'uomo ricco l'aiuto di dio contro la sua avarizia se solo avesse aperto quella porta e avesse voluto aiutarlo ora nell'eternità non c'è più possibilità di ritorno verrete questa parabola ci interpelle ci scuote seriamente perché tante volte anche noi corriamo il rischio troppo presi da noi stessi dai nostri bisogni dai nostri problemi troppo preoccupati di non avere abbastanza anche noi possiamo correre il rischio di non vedere i bisogni degli altri di passare dritti davanti alle sofferenze dei poveri di ritenere i poveri in tutte le loro forme come un peso come un fastidio come un pericolo da evitare quando invece come diceva sant'agostino sono proprio loro i fattorini di dio coloro che porteranno davanti al signore il frutto spirituale della nostra carità allora che questa parabola scuota davvero i nostri cuori e ci smuova dal nostro egoismo di riscoprire la nostra vita e tutti i beni che abbiamo come un dono ricevuto da donare a nostra volta che dio ci aiuti ad avere occhi e cuore per gli altri a scoprire nelle povertà degli altri le occasioni che abbiamo per imparare ad amare un po di più pace e bene dio vi benedica tutti